Sapete, nel mondo della finanza ci sono due regole auree, e cioè non indebitarsi troppo e non mettere tutte le uova nello stesso paniere. E se non le rispettate queste regole, beh, il rischio è che potrete perdere miliardi e miliardi di dollari, proprio come la storia che vi vorrei raccontare oggi. E per tutte le altre regole voi mi chiederete, beh, c'è Copernico Centro Studi che è anche lo sponsor di oggi. Copernico Centro Studi è un centro di formazione che, grazie ai loro videocorsi, vi permette di affrontare al meglio l'esame da consulente finanziario, per poi poter praticare la professione. Oltre a questo corso ce ne sono tanti altri che mette a disposizione Copernico Centro Studi, e cioè quello ad esempio di commercialista esperto contabile, consulente del lavoro, revisore legale, avvocato, psicologo e assistente sociale. Tutti questi corsi sono aggiornati costantemente, con dirette aggiuntive periodiche in cui interagire con i docenti e un tutor dedicato che aiuta nello studio. Se ne volete sapere di più, link in descrizione dove ci sono tutte le informazioni e vi consiglio anche di andare a contattarli in quanto sono sempre disponibili per ogni chiarimento. Inoltre vi consiglio anche di dare un'occhiata al loro canale YouTube dove ci sono delle video lezioni gratuite in modo da conoscere al meglio il loro metodo di formazione. Il protagonista della nostra storia è Bill Wong, un uomo che fece i primi passi all'interno di Wall Street negli anni 90 per poi nel 2000 aprirsi il proprio hedge fund. Dopo vari successi e fallimenti purtroppo per Wong arriva nel 2012 un'accusa di insider trading che è un'accusa abbastanza pesante all'interno del mondo finanziario e poi così arriva anche una multa di ben 44 milioni di dollari. Qualche anno dopo lo scandalo Wong apre un family office dal nome di Archegos. Praticamente i family office sono dei servizi di consulenza finanziaria che hanno lo scopo di gestire le grandi ricchezze di poche famiglie benestanti. Quindi nulla a che vedere con un hedge fund con ingenti risorse finanziarie da poter spendere sui mercati. Eppure oggi stiamo proprio parlando di Archegos che ha messo sotto scacco diverse banche internazionali tra le più famose al mondo come ad esempio Goldman Sachs, Credit Suisse o Nomura. Come è potuto succedere tutto ciò? Come un pregiudicato tramite un piccolo family office ha potuto far perdere miliardi di dollari a così tante banche? Lo vediamo proprio oggi. Innanzitutto c'è da specificare che le regole all'interno del mondo finanziario sono aumentate molto dopo la crisi del 2008 ma sapendo come funziona in questi casi, no? Le regole sono fatte per essere aggirate che è proprio quello che ha fatto Wong. Innanzitutto i family office sono molto meno regolamentati rispetto ai classici hedge fund e meno regole significa più libertà e più libertà significa assumere delle operazioni finanziarie molto più rischiose rispetto al normale. Ma cosa succede quando qualcuno vuole fare più soldi possibili nel minor tempo possibile? Non segue le regole che abbiamo detto all'inizio del video. Infatti a quanto pare Wong ha investito nei mercati finanziari con dei soldi che non aveva utilizzando la cosiddetta leva finanziaria. Addirittura alcuni ipotizzano una leva finanziaria utilizzata da Wong pari a 10 a 1 quindi praticamente per ogni euro messo da Wong all'interno dell'investimento c'è stato un altro operatore finanziario che ne ha messi 9. La leva finanziaria per capirci è come un moltiplicatore dei tuoi investimenti. Se le cose vanno bene allora la tua leva finanziaria moltiplicherà i tuoi guadagni. Se invece le cose vanno male allora allo stesso modo la leva finanziaria moltiplicherà le tue perdite. E una leva finanziaria di 10 a 1 è molto elevata. Un altro modo per aumentare i guadagni è quello di investire numerose risorse in poche società quotate nei mercati finanziari. Praticamente in questo modo la domanda aumenta e di conseguenza anche il prezzo dell'azione della società. Aumentando il prezzo si attira anche l'attenzione degli altri operatori finanziari che vedono il prezzo dell'azione aumentare e quindi investire in un ciclo che si autogenera. Più i persone investono e più la domanda scarseggia e più il prezzo del titolo aumenta. Ed è proprio quello che è successo a Viecom CBS che è una delle società su cui Wong ha investito. Se infatti all'inizio di ottobre 2020 un'azione di Viecom CBS costava all'incirca 30 dollari verso la fine di marzo 2021 questa azione costava 100 dollari nonostante il business di Viecom CBS non giustificasse tutto questo aumento. Quindi Wong investendo grandi risorse in poche aziende come ad esempio Viecom CBS oppure anche Discovery e altre ha aumentato artificiosamente il prezzo delle azioni guadagnando molti soldi. Ok ma ci stiamo perdendo un pezzo infatti abbiamo già visto come Wong sia un pregiudicato con un'accusa anche abbastanza pesante nel mondo finanziario. Allora com'è possibile che abbia potuto fare tutti questi giochini? Anche qui aggirando le regole. Infatti tecnicamente Wong non ha acquistato le azioni di quelle società bensì ha dato l'ordine alle banche di investimento tra cui ad esempio Credit Suisse e Nomura di acquistare per suo conto tutte quelle azioni tramite uno strumento finanziario derivato chiamato Total Rate Swap. Come funziona un Total Return Swap? Praticamente io dico alla mia banca di acquistare un titolo azionario sotto il pagamento di un tasso di interesse. Se le cose vanno bene e il titolo azionario aumenta di valore allora la banca mi restituirà tutti i guadagni derivanti dal titolo azionario. Ma se le cose vanno male allora io dovrò ridare indietro alla mia banca il valore perso da quel titolo azionario. Questo tipologia di strumento può essere acquistata nei mercati non regolamentati o meglio detti in modo tecnico OTC, over the counter. In questi mercati non regolamentati non ci sono particolari obblighi o segnalazioni di chi sta comprando cosa e in questo modo Wong è riuscito a entrare nei mercati finanziari imbrigliando numerose banche di investimento che non sapevano che stavano finanziando la stessa persona. Questo meccanismo funziona ma ha un grande limite e cioè che è un meccanismo autogenerante. Se infatti le cose vanno bene allora puoi stare tranquillo a goderti tutti i tuoi guadagni ma se le cose iniziano ad andare male allora potrebbero andare ancora peggio. Ma cos'è che è andato storto nei piani di Wong? Beh la stessa ViacomCBS che gli ha garantito così tanti guadagni fino ad adesso. Infatti l'azienda vedendo il prezzo delle azioni aumentare così tanto ha deciso di fare un aumento di capitale quindi praticamente generare nuove azioni ma generando nuove azioni il prezzo delle azioni diminuisce e questo ha creato il meccanismo che vi dicevo che se le cose vanno male allora andranno ancora peggio. Le banche di investimento che hanno acquistato le azioni per conto di Wong vedendo i prezzi così bassi hanno intimato Wong a recuperare le perdite e ad aumentare le garanzie sui prestiti ottenuti. Però Wong praticamente aveva finito le proprie disponibilità economiche e quindi le banche di investimento si sono trovate con il cerino in mano con le azioni svalutate. A questo punto la storia scende nel comico in quanto le banche di investimento scoprono di essere tutte sulla stessa barca e cercano di trovare qualche tipo di accordo in modo da non vendere tutte in contemporanea in quanto dopo una vendita di massa il prezzo sarebbe sceso e quindi le banche avrebbero perso ancora più soldi. Purtroppo però la notizia era diventata pubblica e così Goldman Sachs prende iniziativa e inizia a vendere di sua spontanea volontà tutte le azioni che aveva in possesso. Di conseguenza anche tutte le altre banche cercano di rincorrerla purtroppo però rimangono indietro Credit Suisse e Nomura che sono le due banche che hanno subito più perdite in tutta questa storia. Ragazzi siete tranquilli, non vendete, mi raccomando facciamo una cosa bella precisa niente panico eh? Altrimenti qui ci troviamo in un mare di guai. Certo, certo capisco, stiamo calmi, stiamo calmi. Oh merda! Pronto? Bendy, Bendy! Ma andate a fare in culo Bendy! Cosa ma? Ehi! Goldman Sachs ma che? Le perdite sono state di miliardi e miliardi di dollari da questa storia e ancora ad oggi ci si sta chiedendo se questo a crisi potrebbe essere endemica e intaccare tutto il sistema finanziario magari scaturendo qualche tipo di scenario come quello del 2008. Al momento sembra di no e i danni sono limitati principalmente al buon Wong e ad alcune banche che comunque potrebbero contenere i danni subiti. Numerosi dubbi comunque sono nati su come sia possibile che numerose banche di investimento possono fare affari con persone pregiudicate. Inoltre ci si sta chiedendo come migliorare questi regolamenti sui mercati finanziari in modo da evitare queste scappatoie. Il problema è che soprattutto nel mondo finanziario creata la legge si crea anche l'inganno e sempre più spesso le agenzie di regolamentazione e di vigilanza come ad esempio la SEC arrivano sempre dopo che il misfatto è avvenuto. Staremo a vedere come la situazione si evolverà. La notizia era sicuramente interessante quindi ho deciso di parlarvene. Detto ciò ringrazio gli abbonati per supportarmi in questo progetto di divulgazione economica e soprattutto ringrazio anche lo sponsor di oggi cioè Copernico Centro Studi. Come al solito vi lascio tutti i link in descrizione se volete approfittare dei loro videocorsi. Detto ciò vi saluto e alla prossima. Ciao! Ciao!